La storia abita qui. Villa Lamparelli, dimora dei Templari. Arte e cultura, cultura ed arte del mangiar bene. Villa Lamparelli, ricevimenti all'aperto, pranzi di gala, eventi, meeting e serate musicali. La storia vi parla ancora. Villa Lamparelli, dimora dei Templari. Con planare strada provinciale 231 km 64 e 200. Sovereto, Bari.